facciamo una cosa molto semplice però anche efficace perché una delle cose che mi chiedono di più sono le app per fare delle operazioni le app per firmare, le app per montare le app per editare, fare titoli, grafiche, sottopancia insomma le app per fare cose fighe con lo smartphone e se, come dire, se mi seguite se mi segui, tu che stai guardando guarderai questa diretta mentre io mi fumo il primo sigaro di giornata e mi preparo a lavorare ti faccio vedere una cosa tutto sommato interessante, anzi due cose interessanti condividendoti lo schermo del mio telefono adesso vediamo se riesco a recuperarlo tra le fonti, gli input possibili di questa diretta display del mio iPhone 13 Max eccolo qua e allora voglio farti vedere due app in particolare allora, questa non è però memoria una è una app che si chiama Toggle Track che rappresenta diciamo una delle armi più interessanti più importanti per il lavoro di un freelancer per tracciare il tempo in questo momento, per esempio ti sto facendo vedere la visualizzazione i report possibili del tempo ma qui ci sono tutte le entrate le time entry per esempio io ne posso scrivere una che è diretta Facebook posso aggiungere il progetto che in questo caso è algoritmo umano io posso creare progetti riferiti a clienti quindi ci sarebbe anche la possibilità di dividere tra ore fatturabili e non fatturabili per sapere appunto quante ore poi imputare a un cliente e inizia diciamo il contatore che io posso poi riadeguare e come dire utilizzare anche per adeguarlo anche in post se mi sono dimenticato di farlo partire ma diciamo la prima azione che è importante fare con queste app che tracciano il tempo è un'azione che riguarda diciamo la time entry quando ti metti a fare un lavoro cominci a come dire a cronometrare il tempo che ci metti c'è una parte dell'app che riguarda riguarda il calendario per cui degli impegni che sono nel tuo calendario del telefonino possono essere poi trasformati molto facilmente in time entries e da questa parte c'è diciamo la parte che riguarda per esempio un lasso di tempo per farti capire a quali progetti hai dedicato più tempo e a quali situazioni hai dedicato più energia e più risorse per quanto riguarda il tuo lavoro che cosa che cosa provoca questa questa app provoca il fatto che tu sappia esattamente dove investi il tuo tempo che come dire se stai creando un progetto se sei un libero professionista ma anche se sei un dipendente è importante sapere per vedere anche dove si spreca il proprio tempo cioè quando le risorse messe in un progetto sono invece troppe il telefonino ormai è un ponte di comunicazione bidirezionale nel senso che diciamo il flusso della comunicazione va da una parte all'altra va in due direzioni va dal web verso di te con queste notifiche che spesso ti disturbano e da te al web perché ormai puoi produrre contenuti pubblicarli sulle piattaforme digitali costruire il racconto del tuo lavoro ma è anche importante perché ormai è un ponte di comunicazione con le piattaforme di lavoro in cloud per cui la seconda app che ti faccio vedere è un'app che è stata recentemente acquistata da adobe si vediamo questa volta te lo faccio vedere da questa parte vediamo di andare a recuperarla si chiama frame.io e che cos'è è una piattaforma di sharing dei video e dei prodotti che crei anche audio e delle cose che crei se sei un comunicatore e hai bisogno di far vedere al cliente o a qualcuno che ti sta guidando nella realizzazione di questa produzione la cosa che stai facendo per esempio vediamo di recuperarne uno in particolare e ti faccio vedere che per esempio questo è un audio addirittura e qui ci sono tutti i commenti del cliente che poi vengono recepiti nel tuo account e quindi puoi procedere alle correzioni che ti chiede chi ti ha commissionato questo lavoro quindi che cosa cambia cambia che non ci sono dispersioni di tempo non ci sono email con invidio i transfer fammi sapere non ci sono contro email che dicono correggi questo e quello senza dirti dove e come perché ogni commento per un eventuale cambiamento va diciamo messo al minuto e secondo dentro questa piattaforma che è come dire poi facilmente riscontrabile lo vedi al minuto tal dei tali questo come dire questo cliente al minuto 5 per esempio mi ha detto di fare determinate cose e di fare determinate operazioni e per questo tipo di piattaforma va detta anche un'altra cosa frame.io che è stata acquistata da adobe è una piattaforma che ha una connessione diretta con alcune app di editing molto importanti alcuni software di editing molto importanti cioè va a collegarsi in entrata per quanto riguarda le immagini con Filmic Pro che è una delle principali diciamo app di come dire di Filmic vediamo se riesco a farti vedere lo schermo naturalmente ho sbagliato verso l'app di Filmic Pro che qui ha la possibilità di collegare questa app a frame.io cosa vuol dire? vuol dire che tu proprio le cose che filmi le puoi far vedere a come dire a un vediamo di tirarci su a un tuo committente o darle mandarle a un tuo committente tramite frame in maniera molto 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 facile perché una delle cose che frame fa è il camera to cloud quindi anzi che filmi fa è il camera to cloud e si possono creare naturalmente delle interazioni molto interessanti quando per esempio si fa parte di una redazione e si inviano dei semi lavorati delle interviste o delle delle lavorazioni insomma per verso la redazione in maniera diciamo virtuale senza muoversi dal luogo dove si è per cui adesso vado a chiudere ti dico che io sono Francesco Facchini che il mio sito è algoritmo umano che qui ci sono anche delle star se vuoi darmi come dire un aiuto una mano per quanto riguarda la produzione di questi contenuti che se mi vuoi cercare su twitter mi trovi qui e che è stato un piacere stare in tua compagnia per come dire finire di sfumacchiare il sigaro e tra l'altro come dire non seguite il mio esempio non seguire il mio esempio e raccontarti di un paio di app che sono toggle track t o g g l track e frame punto io la prima per fotografare il tuo tempo e la seconda per trasferire dei contenuti a committenti per la review oppure per trasferire addirittura da filmic pro cioè dall'app che ha elevato lo standard di acquisizione delle immagini con uno smartphone a una redazione una redazione virtuale diciamo via piattaforma frame punto io si possono inviare delle immagini in tempo reale che sono collegate con app di editing come luma fusion o con app con software di editing statico per computer come premiere pro per cui tu filmi con filmic fai upload delle immagini in punto io e poi sostanzialmente ti ritrovi a lavorare delle immagini perché su premiere pro o su luma fusion puoi scaricare le stesse immagini e metterle sulla timeline per editare un video ciao alle prossime ciao